Ogni domenica c'è un solo posto dove trovi gli unici veri supereroi Marvel Universe Vivi le avventure più incredibili dei mitici eroi Marvel Parla di meno, spacca di più Ogni domenica alle 9 ti aspettano i nuovi episodi di Avengers Assemble e anche gli agenti Smash Trasformati anche tu in un vero eroe con Marvel Universe Ogni domenica alle 9 a Disney XD